Devo dire che un clima di grande intesa tra dipartimento e struttura commissariale da un lato e chiaramente con tutte le associazioni di categoria dei privati accreditati convenzionati si è fatta una ripartizione chiaramente non soddisfacente per l'interesse di tanti dei 250 milioni del bilancio regionale e in qualche modo abbiamo dato un peso specifico al recupero delle fughe verso le regioni del nord e abbiamo puntato su un completamento della produzione pubblica a quello che è quello del privato e questo sulla specialistica ambulatoriale. Nella specialistica puntiamo sull'abbattimento delle liste di attesa per cui è stato dato un budget per la radiologia, risonanza, attacca e ecografia e sulle visite.